Musica 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 Abbiamo visto un'epoca in FAST5, in questo caso abbiamo visto un'epoca che si chiudono, non si sentono le persone che si sentono in questo caso, non li ho capito, non ho capito Non ho capito, non ho capito, non ho capito Non ho capito, abbiamo visto un'epoca Abbiamo visto un'epoca in l'epoca Siamo iniziando, e iniziare a capire il risultato e a capire tutto questo Prima di entrare non viaggiare il YouTube Grazie per la visione